Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di GTA V Come vedete sono appena atterrato con il dodo qua in autostrada E guardate che colonna che si è formata E' una cosa pazzesca, quindi Chi mi conosce sa già cosa Starà per succedere, siete pronti? Quelli già stanno scappando, 3, 2, 1, via! Boom! Violenza allo stato puro Vibra tutto, vibra tutto, guardate che roba La mega esplosione Fantastico ragazzi Non sto capendo più niente Guardate che colonna che si è formata Via anche quello, sta per esplodere tutto Epico ragazzi Fantastico Quello via, buttiamolo via Guardate che roba Fantastico ragazzi Via scappiamo Via via, dentro al dodo Dentro al dodo, prendi il volo No davanti, no davanti Bastardi Non morire trevor, non morire Non morire trevor, tu sei invincibile Ricordatelo Ricordatelo trevor, sei invincibile E fugge anche dagli sbirri Attenzione, prende il volo Dai, prima del ponte Vai Sul carrello, sul carrello Vai Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Non ce la facciamo Non ce la facciamo È stato fantastico Non potevo comunque Lasciare là tutta quella fila di auto Senza farle esplodere Qua sto prendendo fuoco Anch'io ragazzi Sto prendendo fuoco Andiamo sull'acqua Andiamo sull'acqua Dai dodo Non abbandonarmi adesso Non abbandonarmi adesso Dai Dai che atterro lo stesso Io atterro ugualmente Tira fuori il carrello No Ma dai Ma c'era il coso in cemento Ed eccoci qui Arrivati al blimp Volevo farvelo vedere Diciamo senza pulizia Ma che cavolo Qua non è possibile Giocare senza pulizia GTA Questo qui ragazzi È il blimp È veramente una cosa Veramente molto molto bella Rispetto al primo Dai veloce Veloce Questo è in prima persona Ragazzi dentro al blimp Non è niente niente male Guardate che roba Due stellette Per fortuna che non ho l'elicottero Quelli si sono già arresi Ragazzi È veramente una figata Mi sembra anche Adesso ragazzi Non mi ricordo assolutamente Perché l'ho usato Veramente pochissime volte Il blimp Anche sulla PlayStation 3 Quello giallo Non mi ricordo Se era della stessa grandezza O se quell'altro Era più piccolo Questo non mi ricordo Assolutamente Ha un vuoto completo Di memoria Comunque questo qui Mi sembra molto molto Fatto bene ragazzi Magari ci hanno cambiato Solo il colore La grandezza è rimasta uguale Però non è male il blimp Se questo qui Anche se non mi ricordo Ragazzi dovrebbe essere Più veloce Perché si alza Io mi ricordo veramente Il primo Che era lentissimo Questo qui in confronto È abbastanza veloce Ragazzi Guardate da sotto Come ci muoviamo veloci Cioè è veramente Secondo me è più veloce Il blimp rosso Che quello giallo Cavolo Sono già dentro In centro città Cioè è veramente Una cosa spettacolo Beh qui possiamo Deviare Fare Non possiamo fare Nient'altro Ragazzi Girarlo Fare testa a coda Fare qualsiasi altra cosa Diventa impossibile Da fare In prima persona Mi avete chiesto Di farvelo vedere Ed ecco qui ragazzi Senza copilota Guardate che bello Che è il blimp E ora che vi ho fatto Vedere anche Questo dirigibile Ragazzi Voglio farvi vedere Anche un altro Veicolo Veramente Molto Molto Interessante Dai Avevo centrato La piscina Cavolo Ed eccoci qui Arrivati all'aeroporto Di Trevor Come vedete qua Ho un po' di elicotteri Aeri Ho un po' di tutto Veramente Qui c'è il mio bel Rottweiler Che fa la guardia Anche davanti all'hangar E volevo farvi vedere Questo ragazzi Il Marshall Con la bandiera Italiana Dov'è Eccolo Qui Favoloso Ragazzi Anche questo Monster Truck Lo potete Trovare solamente Se avete già giocato Al gioco Della Playstation 3 Già sulle vecchie console Possiamo dire Sempre se non mi ricordo male Ragazzi E possiamo Trovarlo Esattamente Viaggi e trasporti Intanto qui su Elias Travel Possiamo trovare Il Dodo Una volta che avrete Sbloccato tutta la missione Che vi ho fatto vedere Nel video precedente Potrete trovare Anche il Dodo Poi qui Ci sono tutti gli altri aerei Ma Questo qui Possiamo trovarlo Esattamente qui A 250.000 dollari Veramente molto Molto bello Perché Si può modificare Con tutte le bandiere Che si vogliono E via dicendo Guardate l'interno Che bello Che è Cioè Veramente Fatto bene Guardate gli specchietti Che si vedono Si vedono Gli specchietti Cavolo Non tutte le macchine Hanno questa cosa qui Dove C'è lo specchietto Veramente Che funziona E anche quell'altro È veramente Fatto molto Molto bene Pronti 8.000 giri 8.000 Vai A manetta Vai 100.000 orarie Dai Dai 8.000 giri Stiamo per sfondare Il cofano C'è il pistone Che implora Pietà qua Che fantastico Vai Andiamo Di Qua Possiamo sparare Vi vorrei far vedere Anche l'altro veicolo Ragazzi Se riesco Salto Boom Eccolo lì Eccolo lì Per fortuna Ragazzi Ero con il salvataggio Giusto Questo qui ragazzi È uno Mi dispiace Se ho giocato Se l'ho usato Poco tempo Però vi voglio far vedere In questo video Tutti i veicoli Perché siete Veramente In tanti Che me lo chiedete Ed è giusto Perché non ve li ho ancora Fatti vedere Questo qui Il monster track Veramente Molto Molto Bello Con questa Macchina Per così dire Vecchia Sopra Ed eccola qua Questa qui È la macchina Fatta Veramente Cattiva Violenta Al 100% Non esiste Un'altra macchina Così cattiva La Imponte Duke Odette Muscle Via Sempre sta radio Guardiamo l'interno Cavolo È vero Qua ci sono I camion Via via Bisogna scappare Dai camion Ragazzi No 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 Via via Cavolo L'interno Ragazzi È No Bastardi No Bastardi Via via Allora scappiamo Ragazzi Poi vi faccio vedere All'interno Via via Guardate che casino Dietro Dobbiamo assolutamente Riuscire a scappare Da questi Per avere poi La macchina Ancora dietro Pazzesco Ancora uno Ce no Deviazione E ole Te pareva L'unico sasso Lo andavo a prendere io No Che scatole Questi qua Vengono anche su di qua Anche su di qua Allora noi tagliamo Da tutte le parti Ragazzi Via Ola Ne abbiamo battuti Ragazzi Battuti La macchina è nostra Guardate che roba Vi volevo far vedere L'interno Guardate che bello Che è l'interno Con tutti i rollbar Arancioni L'interno È veramente Fantastico Con tutte Ste Feritoie Qua Col muso Cioè In prima persona Non si vede Assolutamente nulla Così era Da vedere Il carro armato Se si vedeva così Il carro armato Che era magari Ancora più Inguidabile Però cavolo Così sei dentro Un carro armato Con davanti solamente Una finestrella Così Là al posto Del motore C'era un bel cannone Appunto dove sparavi Allora è fatto bene Guardate che bella Che è questa macchina Con gli scarichi laterali È veramente Uno Spettacolo È una cosa Magnifica Questa Per chi lo chiedesse Ragazzi Questa macchina Può entrare dentro Anche allo Santos Custom Siete pronti Si può riparare Si può mettere L'armatura I freni Si può potenziare Il motore Il claxon Tutte le luci Si possono fare Guardate come Si abbassano È veramente Una cosa Fantastico Lo schema Le luci Si possono mettere Facciamo le blu Questa volta Poi cosa possiamo fare La verniciatura Colore secondario Qual è che era Ah Tutto quanto Guardate ragazzi Il motore Come su quell'altra Che vi avevo già fatto vedere Guardate lo specchio Lo specchio La cosa bella ragazzi Che ho riparato la macchina Sul lato del guidatore Non c'è lo specchietto C'è solamente sulla destra Guardate che bella Rosso Torino E poi in pratica Si può modificare Come l'altra macchina Ragazzi Ruote Cioè Si può modificare Completamente Quindi possiamo farla diventare Ancora più cattiva È veramente Una cosa Spettacolare Trova Fare questa macchina Con tutte le luci al neon Vederle di notte Ragazzi Guardate anche qui Non so se è riuscita a vedere Ma Con Le lucette blu Sotto di notte Questa macchina diventa Veramente Cattivissima La macchina Veramente del diavolo Di Los Santos Comunque qui Guardate un po' Che cavolo c'è È un mostro Anche questa macchina Qui A me piace Veramente tantissimo Il nuovo GTA Perché così a caso Potete trovare Macchine Completamente Modificate In giro Ed è giusto Così perché Anche nella realtà Qui c'è sempre La radio a mille Anche nella realtà Ragazzi Non siete solo voi A modificare l'auto Ci sono tantissimi Altri appassionati Di auto Guardate che bello Che ha sto gippone Con questi cerchi Cioè è favoloso Guardate l'interno Anche dietro Senza sedili Bello Bello Mi piace Mi piace Cavolo Lasciamo lì La imponte Duke E prendiamo Questa qui Massiccia Cioè Macchine così Stramodificate A caso Quindi ragazzi Io direi che per questo video È veramente tutto Vi ho fatto vedere Tutti i veicoli speciali Che possiamo trovare Dentro Al nuovo Possiamo dire GTA 5 Ragazzi Qua ho già spaccato La ruota Ottimo Sono un danno Io ragazzi Da quanto tempo Ce l'avevo Questa macchina Un minuto e mezzo E l'ho già spaccata E comunque Vai Lasciate tantissimi like Commentate Iscrivetevi al canale Alla pagina facebook Al mio canale Qua da Bistard è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Grazie per la visione!